Eccoci qua zia! Eeeh, mano fricco! Oggi continuiamo con le nostre fiabe! Cosa ci racconti oggi? Oggi racconto la storia del gris, della cicala e della rana. Siamo tutte orecchie! Anche in friulano però! Anche in friulano, vai avanti! Sì! Una volta la cicala era su un albero, su una vite che sgranava uva e altra roba. E' iniziato a passare la rana di chiede, friulano, devo dire, più o meno. E gli domande, ossola e far ossola, se fattro sono capito. E mangi il pane e il cocco, lui ci spiatti il mio marido. Il mio marido è andato in Francia a comprare la bilancia per fare la mia barba e tutte le croce che ci chiantava. Mentre è andato in Francia a comprare la bilancia per fare la rana che cantavano sempre. La barba e tutte le croce. L'importante è che capiscono i nostri amici. Ma devono capire, in friulano è un friulano abbastanza leggero questo. Bene zia, un saluto a tutti. Sì, un saluto a tutti e via. E alla prossima! Sì. Ciao! Ehm... Ehm... Ehm...